Per curiosità, chi è che ha rotto il rapporto tra lei e Vacchi? Io! Quando? Se lo può dire? 19 giugno 2000... Due anni fa. 19 giugno di due anni fa, o tre anni fa. Sì, comunque dopo quattro anni che lavoravamo insieme. Ma perché l'ha rotto? Perché? Cosa c'era che non andava? L'abbiamo visto su quell'aereo, Felice, che ballavate, cantavate su quell'aereo. Posso fare un esempio di quell'aereo, signor Ciletti? Sì, che poi devo parlare con lei degli aerei, perché anche lei con gli aerei scherza poco. Le spiego, quell'aereo era la musica, visto che suonava e si ballava, la musica non era neanche collegata, la spina era staccata. Punto due, l'aereo non era in volo, era fermo parcheggiato. Eppure quello che lì si mostra era che noi eravamo in volo, andando chissà dove, con la musica e tutti ci divertivamo. Quella scena è stata fatta circa sei disti volte. Quindi è una proiezione, come diceva Nunzia, è una proiezione di quello che vorremmo vivere ma non sempre si vive. La fermo, non voglio scomodare Bauman.